7.2 base d'asta da confermare di 7.000 che viene confermata, c'è stata una guerra, 7.4, 7.6, 7.8, 8.000, 8.2, 8.6, 8.6, 9.000 io ho al 9.2, 9.4, 9.4, 9.6, siamo a 9.400 euro, 9.6, 9.8, 10.000 è il prossimo bilancio, 10.000 è il prossimo bilancio, 10.000 è il prossimo bilancio, 11.000 è il prossimo bilancio, siamo a 11.000 alla votazione numero 2, 11.000 è il prossimo bilancio, altrimenti 11.000 per la prima, 12.000 è il prossimo bilancio, 12.500 euro, 12.500, 13.000 è il prossimo bilancio, 13.000 è il prossimo bilancio, 14.000 è il prossimo bilancio, siamo a 13.000 è il prossimo bilancio, il prossimo bilancio, altrimenti è 13.500 euro per la prima, 13.500 euro per la seconda e 13.500 euro per la terza alla votazione numero 2, complimenti.